Troppi contagi, chiudiamo tutto prima di Natale. Queste le dichiarazioni di Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha scelto la linea dura per la Germania che dal 16 dicembre ripristinerà il lockdown senza deroghe. Una decisione che riporta il dibattito sulle misure da adottare anche in Italia, dove la curva dei contagi non rasserena gli animi. Inoltre nel weekend appena trascorso si sono registrati assembramenti in tutte le grandi città del paese. Tanta gente in strada per fare acquisti di ogni genere. Il rischio che ciò accada di nuovo è molto alto in relazione all'avvicinarsi delle festività. Abbastanza preoccupante. Basta guardare le immagini di ieri sui media, sulle tv sia nazionali che locali per rendersi conto che ci sono degli atteggiamenti che sono, per essere un eufemismo, irresponsabili. Perché poi i comportamenti individuali condizionano anche i comportamenti collettivi. Certamente è una situazione molto molto difficile. Il Molise in tutto ciò può intraprendere misure ad hoc per contenere il contagio. Sulla questione queste le opinioni di Felice Didonato, medico e componente del Comitato Tecnico Scientifico, che indica la strada da intraprendere per cercare quanto più possibile di tutelare la salute dei cittadini. Il Comitato Tecnico Scientifico del Molise sta facendo una riflessione sulla ripresa dopo questo periodo di festività. Su come riprendere alcuni nodi fondamentali, quello dei trasporti, della scuola e soprattutto il tracciamento nella famiglia. Più abbiamo la capacità di fare tamponi, più abbiamo la capacità di identificare quali sono i soggetti che sono sicuramente stati contagiati, più avremo la possibilità di isolarli, di fare una barriera e quindi di impedire a questo maledetto virus di propagarsi ulteriormente. La Regione c'è un continuo confronto sulle misure da adottare in questo periodo? Guardi, il nostro è un Comitato Tecnico Scientifico di consiglio. Poi i decisori sono altri soggetti, sono la ASREM, la Regione, e quindi noi diamo solamente dei consigli. Su quei consigli poi loro che sono i decisori dell'attività sia burocratica e funzionale della ASREM, ma anche quella regionale di indirizzo politico, daranno poi quelle che sono le norme comportamentali con i vari decreti che ci saranno prossimamente. Gli ultimi dati vedono un tasso di positività alto in Molise, come si spiega? Guardi, io penso che l'indice RT sicuramente è uno dei più alti nel Molise, è alto, però dovrebbe essere riverificato questo indice a seconda di altri parametri che devono essere quasi personalizzati sulla nostra Regione. Io su questo dato ci andrei molto molto cautela.